This is the captain speaking to you, we landed in the break-in until the end of the day, thank you! Ragazzi! Oh, ho fatto un alteraggio! Perfetto! Incredibile! Stato bravissimo, però non ho sentito niente, l'iscia come l'olio! Stato bravo, eh! Cioè, gli riderebbe l'applauso, però facciamo la prossima! Senti, ma dove stiamo andando? Ci sta il fuso orario! Un'ora, due, tre ore! Si ispira proprio un'area internazionale, troppo bello, guarda, quasi quasi mollo tutto, vengo qui ad aprire un croschetto di Ossobucco, l'Ossobucco in Nord Europa! Guarda, c'è Fred che fa! Ma c'è il Polo Nord qua! Madonna, ma che è il suo caffè? Mi ha avvelenato! Si, esagerata, che sarà mai! Madonna, devo troppo comprare una calamità di un mio rango sulla culoposofette! Ma qua funziona il rollo! Attivo? Vado! E' sempre bello comunque viaggiare, vedere culture diverse! Bello, bello! Però l'Italia è un'altra cosa!